non so dove siamo però c'è il mcdonut bella quindi scommetti cosa? 2 euro, se tu mcdonut è a castaway secondo me non è lui ma non so neanche chi mi si fa siamo in un autogrill sconosciuto al autogrill ci offriranno carne di cervo, dolci e poi non lo so e sicuramente troveremo e sicuramente sarà tutto gratis bella ragazzi questo è per mettere massa e ora sto facendo più divertente e ora sto facendo più divertente sto facendo le pensi che non mi rendono e non mi rendono e credo che questo modo può sentire il stesso per tutti e se fanno l'amore l'amore e sono arrivate stazioni, c'è la e sono arrivate stazioni, c'è la